Antonio, l'Inter Club di Fano porta lo stadio Nerazzurro alla Cooperativa Tre Ponti, che cosa avete organizzato per il 10 giugno? Abbiamo organizzato un bel evento secondo me, anche perché comunque è un evento che pare verosimile all'inizio della stagione. Nessuno ci credeva, però ci siamo arrivati in finale, quindi è un momento da vivere realmente tutti assieme, abbracciati come soldi e come dei fratelli, perché sotto il vessillo Nerazzurro dobbiamo metterci di impegno. A che ora è previsto l'appuntamento? La partita è alle 21, però dalle 19.30 ci si può accedere alla Cooperativa Tre Ponti, c'è la possibilità di anche degustare panini, piadine e quant'altro. Quindi è anche un momento di aggregazione? Assolutamente sì, tengo a precisare che non è solo aperto ai soci, anche ai non soci, quindi con l'opportunità magari di vedere l'ambiente come è il nostro calore nerazzurro e magari domani perché no, farsi socio. Questo evento è stato organizzato con la Cooperativa Tre Ponti, anche perché noi abbiamo la sede ufficiale del club a Chiaruccia, quindi è stata una cosa bella, abbiamo sfruttato questo momento di aggregazione anche con la Cooperativa Tre Ponti, quindi vi aspettiamo numerosi e sempre forza in. Grazie a tutti!